per questa pasta veramente golosa ci servono per una persona perché la andrò a mangiare solamente io perché a pranzo sono sola 170 g di carne macinata di vitello 200 g di melanzana tagliata a cubetti mezza cipolla paprika o spezzi a piacere foglie di basilico mezza passata di pomodoro anche meno ed olio extravergine d'oliva ok tagliata la verdura ci possiamo trasferire sul fuoco in una pentola capiente verso un filo d'olio paprika o peperoncino se ti piace io non ce l'ho quindi metto questo cipolla lasciamo soffriggere aggiungendo un pochino d'acqua per facilitare la cottura e per fare imbondire quest'ultima e per evitare che si bruci non ci farei caso per l'altra pentola ma già sto preparando la cena mi porto avanti preparando più cose contemporaneamente adesso possiamo inserire le melanzane e il basilico copriamo e lasciamo cuocere perché devono diventare veramente morbidissime a questo punto aggiungiamo la carne di vitello questo è un piatto ricco e completo perfetto anche per chi è a dieta perché contiene sia la carne che di vitello quindi magra e leggera che è le verdure che carboidrati quindi c'è tutto secondo me ci sta bene anche un goccio di vino rosso che io non l'ho aggiunto tra gli ingredienti ma mi è venuto in mente adesso lasciamo evaporare il vino e quando avvicinandosi non sentiremo più l'aroma potremmo aggiungere il sugo un cucchiaino di zucchero per togliere l'acidità e proseguiamo la cottura per qualche minuto dopo di che il nostro condimento per la pasta sarà pronto è ora di buttare la pasta mi raccomando scolare al dente perché andrà unito al condimento e otterrai una super pastona mamma mia che fame c'è un profumo buon appetito